Siamo con Alessia del Don Bosco Femminile Valente Emilia. Come è nata l'idea di giocare nel calcio femminile? L'idea è nata che mio nonno, essendo che ha sempre giocato a calcio, mi ha lasciato questa passione e io sto cercando di portarla avanti. Hai contagiato altre compagne anche ovviamente. Diciamo che mi hanno contagiato delle mie amiche come Fabiana che gioca anche ora con me e sono felice di condividere questa esperienza con tutte le mie amiche. Questa sera è una partita amichevole, come ti senti? Cominciare con una nuova squadra è sempre un'emozione diversa e speriamo di fare bene. Da dove arrivi tu? Io arrivo da Valleclosia, a Valdivera. Invece come squadra calcistica? Ho giocato nel Don Bosco, sempre qua fino a 12 anni, poi ovviamente sono andata nel Femminile e sono andata nella San Remese e mi sono trovata bene, peccato per come è andata a finire e ora speriamo di fare bene con il Don Bosco. Grazie. Grazie a te.